Ciao amici di MTB MEG, ben trovati anche questa settimana con un nuovo Video Tech Corner. Quest'oggi parleremo di trasmissioni SRAM Eagle AXS, quelle T-Type, quelle nuove a montaggio diretto. Vedremo infatti come regolare il cambio sia utilizzando l'applicazione, sia utilizzando il sistema meccanico di ripristino della corretta posizione del cambio. Prima di entrare in view l'argomento però, come sempre, voglio ricordarvi che se vi piacciono i nostri video potete dare anche voi un piccolo contributo alla loro realizzazione. In che modo? Con l'abbonamento. Abbonatevi, sosteneteci e dimostrate che vi piace il nostro lavoro. Il requisito fondamentale per poter utilizzare questo video è che il cambio sia stato montato correttamente seguendo la procedura ufficiale di SRAM. Talvolta nell'uso può capitare che il sistema si assesti, soprattutto magari si usurino anche i cuscinetti del mozzo, si usino ruote diverse e quindi può essere necessaria la microregolazione ma allo stesso tempo può capitare che botte sul deragliatore lo spostino e quindi che sia necessario ripristinare la corretta posizione del deragliatore. Il nostro primo obiettivo è quello di capire qual è il nostro opinione di riferimento, quello su cui si baserà la nostra regolazione del cambio. Per far questo dobbiamo utilizzare o l'applicazione SRAMA XS o andare sul sito SRAMA XS, inserire le specifiche della bike seguendo la procedura guidata e determinare qual è il nostro opinione di riferimento. Il opinione di riferimento nel caso di questa bici che è una Transition Spire è il pignone da 21, il settimo dal basso o meglio quello identificato dal segno rosso. Su altre bici potrebbe essere il pignone superiore ma in questo caso è il 21 denti, il settimo, che si riconosce per il segno rosso. Identificato il pignone di riferimento posizioniamo la catena sul pignone stesso. Step 2. Con la catena in posizione sul pignone di riferimento inseriamo il cage lock in posizione di regolazione e notiamo subito che, ad esempio in questo caso, abbiamo una certa lassità della catena, segno che probabilmente a causa di qualche impatto, e qui ne vediamo i segni, il deragliatore si è spostato dalla sua posizione corretta. Quindi l'imprecisione della cambiata che abbiamo rilevato può essere imputabile ad una non corretta tensionatura del nostro deragliatore. Per ripristinare la corretta posizione del deragliatore ci servono due chiavi, una da 6 per allentare il perno e una da 8 per allentare la vite del nostro deragliatore. Allentiamo il perno. Non è necessario svitarlo, ci serve semplicemente allentare la ruota. Successivamente andiamo ad allentare anche il nostro cambio, dando mezzo giro. Vedete? Il cambio si è ammorbidito e possiamo procedere con la regolazione. Con la vite lenta posizioniamo il deragliatore tirandolo con le mani. Vedete? Abbiamo la catena appena appena tensionata. E andiamo a completare il sarraggio della vite. In questo modo prestiamo attenzione che il sarraggio di questa vite è di 35 Nm, quindi va stretta per bene e una volta in posizione possiamo rilasciare il nostro deragliatore. Questo aspetto è molto importante. Nella parte posteriore del cambio, vedete, siamo dietro, ci sono due tacche, una e una due. Queste due tacche devono essere allineate. Solitamente quando noi effettuiamo l'operazione di rotazione, adesso ve lo faccio rivedere, l'operazione di rotazione della vite, la piastrina interna, vedete, ruota e automaticamente si allinea perché viene trascinata dalla boccolina interna. Qualora questo non dovesse succedere, magari per motivi di sporco, è necessario muovere manualmente questa piastrina e portarla allineata in modo che le due linee siano perfettamente allineate tra loro. La piastrina limita il movimento in avanti del nostro cambio andando di fatto a definirne la posizione in termini di avanzamento e quindi il corretto tensionamento della catena. Completata la procedura di posizionamento del nostro cambio, chiudiamo il perno passante, burgola del 6, stringiamo la ruota e disattiviamo il cage lock. Potremmo in questa fase testare il funzionamento della nostra trasmissione perché molto spesso la causa del malfunzionamento è proprio questo movimento del cambio dovuto a dei colpi. Qualora il cambio non fosse ancora preciso possiamo procedere alla regolazione micrometrica che adesso vi spiegherò. Per la microregolazione il sistema migliore è utilizzare l'app di SRAM. Prendiamo la nostra applicazione, andiamo in Drive Train Setting e andiamo su Micro Adjustment. Vedete? Il Micro Adjustment di fatto permette di fare la microregolazione sul cambio. Che cosa significano questi numeri 4 e 3? Beh, è molto intuibile. Se andiamo su numeri più piccoli il cambio si sposterà in maniera micrometrica verso l'alto. Se andiamo su numeri più grossi il cambio si sposterà in maniera micrometrica verso il basso. Utilizzando questo registro elettronico andiamo a regolare il Micro Adjustment in maniera che la cambiata sia precisa su tutti i rapporti. Quindi se il deragliatore fatica a salire dobbiamo andare su un numero più piccolo. Se invece la catena fatica a scendere dobbiamo andare verso un numero più grande. Procedura del tutto analoga rispetto a un cambio meccanico con la sola differenza che qui invece di usare il registro utilizziamo i numeri e che la grafica rende tutta l'operazione estremamente e molto molto intuitiva. Giocando quindi con la nostra applicazione verifichiamo soprattutto sui pignoni più grossi che la cambiata sia perfetta prima a cavalletto e successivamente anche su strada perché il cambio T-Type va sempre provato con la trasmissione pulita, ben lubrificata e soprattutto sotto sforzo perché è lì che fa la differenza. Se la nostra trasmissione è stata montata correttamente seguendo in maniera precisa le istruzioni e prima funzionava poi non funziona più allora la procedura che abbiamo visto oggi può e nel 99% dei casi è risolutiva. Ricordatevi sempre che il cambio T-Type, il nuovo Eagle AXS non si storce quindi o si piega la gabbia quindi funziona male perché la gabbia è piegata ma lui difficilmente si storce o non funziona bene. Il problema è semplicemente che può spostarsi a causa delle botte. Il vantaggio del micro adjustment è che io dall'app posso modificare la regolazione del cambio senza neanche avere la bici sul cavalletto. Impostazione, micro adjustment lo metto su 6 e la cambiata sarà precisa sia che uso l'Industry 9 che sia che uso magari il mozzo DT che ha un leggerissimo posizionamento diverso del pacco Pignoni e questo vi assicuro che è una gran figata se avete due treni di ruote. Bene quindi, cos'altro aggiungere? Vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima, appuntamento al prossimo Video Tech Corner e se volete venirmi a trovare vi ricordo che mi trovate sempre qui nel mio negozio Bike Lab via Venezia 11 a Veinasco, vi aspettiamo, io e tutti i ragazzi dello staff vi aspettiamo sempre, anche sotto un saluto, mentre se volete continuare la visione qui e qui trovate altri video correlati. Ciao a tutti, appuntamento a settimana prossima.